Non posso dire com'è lui ora, perché siamo in live. No, non arriva avanti di come sono lui ora. Lui si è macchiata la camicia. Ah, veramente? Guarda. Vabbè, oh, ma non si vede niente, ma è veramente. Ma che è, oh, i malati. La gente spamma buba, eh. Ma una maglietta fino a qua, ma dai. Vabbè che le tacche mentali, però, tiè. Vediamo, vediamo. Ah, guarda, sembra una speccia di tacca. Cioè non si vede assolutamente nulla, se non si vede ancora. È una scurbo, guarda. Tu dovresti spammare, è una scurbo, guarda. Raga, ho capito, ma veramente, però, così, problemi, cioè, la fantasia. Mi potevo mettere una tuta da palombare o comunque scrivere queste cose. Ma tu non sei una che si fa vedere troppo a nudo? No, non particolarmente. Per esempio il video porno? No, chiaramente no.